mi porta cinque anni e vogliamo ricordare di quel che è stato e di quel che non presenta ancora oggi per tutti i tuoi salutiamo un po' di paffetta oggi qui a Rosario Vittico la moglie Yanni e tutta la sua famiglia si rischia di colpa di te e tutti i nostri abbiamo un sacco e tutti i nostri ora abbiamo un grande città Sivisa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.